Bandiere e fuochi d'artificio, un piccolo gruppo di separatisti ha festeggiato così a Donetsk l'annuncio di Vladimir Putin di voler riconoscere l'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche nell'est dell'Ucraina. Dopo giorni di tensione e tentativi diplomatici, l'annuncio di Putin e il successivo invio di truppe nel Donbass rende reale il rischio di conflitto, secondo le Nazioni Unite, che hanno convocato una riunione d'urgenza condannando le decisioni russe. Questa mossa del Presidente Putin è chiaramente il tentativo di creare le basi per un'invasione dell'Ucraina, ha detto l'ambasciatrice americana all'ONU, Linda Thomas-Griffield. Cominciano ad arrivare anche le prime notizie di vittime. Nel Donbass sarebbero stati uccisi due soldati ucraini, dodici feriti. Mentre l'Europa terrà un vertice per decidere sulle sanzioni, resta confermato l'incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Blinken, che ha definito la mossa di Putin un atto prevedibile e vergognoso.